un augurio di buon Natale a tutti i telespettatori di EXA TV dai fratelli Ciofani ovviamente e mi raccomando guardate kick off! un augurio di buon Natale a tutti i tifosi del Frosinone a tutti i ragazzi di kick off e spero che guardate la trasmissione che sono dei ragazzi veramente bravi auguri a tutti mi hanno detto che devo personalizzare questo concetto però non ce la faccio quindi un saluto a tutti e guardate kick off buone feste buon Natale a tutti gli telespettatori di EXA TV tantissimi auguri di buon Natale a tutti sperando che oltre a Natale anche il nuovo anno vada bene pieno di soddisfazioni per tutti i tifosi giocatori e tutti quanti ciao a tutti vorrei fare gli auguri a tutti i ragazzi di EXA TV un saluto speciale a tutti i ragazzi di EXA TV un augurio speciale a tutti i ragazzi di EXA TV un augurio speciale a a Fernando e Angelo anche se ancora non non ho capito se sono duri Buonasera a tutti saluto a tutti gli telespettatori di EXA TV viva la Sicilia e viva Frosinone auguro tanti auguri a tutti i tifosi del Frosinone per le vacanze di Natale e Capodanno spero che continueranno a seguirci come state facendo e al fine del campionato di toglierci le vostre soddisfazioni un saluto a Angelo e a Fernando perché ci seguono intensamente perché fanno una grande telecronica e quindi vogliamo dedicare anche a loro quest'anno delle grandi soddisfazioni Buon Natale a tutti gli spettatori di EXA TV da Enrico Crescenzi e Michele Mangiapelo tanti auguri buon Natale a tutti i tifosi del Frosinone e felice anno nuovo da Mirko Cori facciamo un saluto a Roberto Crivello grazie Rano e a Robert sempre Robert Le Ceglie Le Ceglie e anche Ballerina Tanti auguri a tutti i tifosi e a tutti i telespettatori di EXA TV che ci stanno seguendo un augurio di buon Natale a tutti i tifosi del Frosinone di buon anno e soprattutto un augurio e un saluto a Angelo e a Fernando di Ickikoff un augurio di buon Natale e felice anno nuovo a tutti gli amici di EXA TV e un saluto a Fernando e Angelo di Ickikoff un augurio di buon Natale e di buon anno nuovo a tutti gli amici di EXA TV e un saluto a Angelo e Fernando di EXA TV auguri poi i capelli tanti auguri a tutti i telespettatori auguri auguri a tutti buon Natale buon Natale buon Natale buon Natale buon Natale